Il presidente della regione, Cristian Solinas, ha dichiarato che si sta affrontando l'emergenza del Covid-19, potenziando tutto il sistema sanitario dell'isola con una forte tempestività operativa. Pertanto, sono stati assunti per questo momento di criticità 586 operatori sanitari su tutto il territorio. Queste figure professionali serviranno soprattutto nelle zone e luoghi più colpiti dal virus, quali il Nord Sardegna e alcune case di riposo per anziani, in quanto continuano ad essere le zone con maggior rilevanza di casi positivi. Solinas ha assicurato la disponibilità di tutto il supporto necessario per ulteriori dispositivi di protezione individuale e apparecchiature tecnologiche per far fronte al virus e cercare di circoscriverne la sua diffusione, soprattutto nel Sassarese, dove si sta svolgendo una mappatura minuziosa di tutti i tamponi del personale ospedaliero. L'impegno meticoloso del Presidente è volto anche per le altre parti della regione colpita da casi di contagio, in particolar modo dalle categorie più deboli, come gli anziani, i quali restano sempre i soggetti più a rischio nelle case di riposo.